17 ex ministri francesi dicono basta al silenzio sulle molestie sessuali e il sessismo in politica e nella società. È un lungo appello pubblicato sul giornal di Dimanche in cui si legge tra l'altro come tutte le donne che hanno avuto accesso ad ambienti prima esclusivamente maschili abbiamo dovuto subire e lottare contro il sessismo. Non sono le donne a doversi adattare a questo ambiente, sono i comportamenti di certi uomini che devono cambiare. È un'occasione straordinaria per le donne in politica ma anche nelle imprese, nelle associazioni ovunque ci siano dei gruppi nei quali vengono fatte le donne certe sollecitazioni è un'occasione per dire basta, non sopporteremo più ha commentato Laurence Rossignol, ministro della famiglia nel governo attuale non ha firmato l'appello ma come altre ministre in carica lo appoggia. Un appello che fa seguito a una serie di casi, l'ultimo dei quali è quello di Denis Bopin deputato ecologista e vicepresidente di missionario dell'Assemblea Bopin, che aveva lasciato il partito tre settimane fa, nega tutto un'inchiesta è stata aperta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.